Gentili telespettatori, buona giornata, sondaggio Demopolis, due anni di governo Meloni nell'analisi dell'Istituto Demopolis. Meloni, il governo, la coalizione 2002-2024, fiducia in Giorgia Meloni dal 45 di ottobre 2022 al 44 di oggi, apprezzamento del governo dal 43 dell'ottobre 2022 al 39 di oggi. Peso partiti centrodestra dal 44 sale al 47, più 3%. Peso dei partiti di centrodestra si intende Fratelli Italia, Lega, Forza Italia e noi moderati. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.